Giovedì 30 siamo a Sant'Antioco, nella isola di Sant'Antioco. Dopo aver passato una giornata al mare, in questa isoletta, siamo qui a rinfrescarci con una birretta icnesa. Eccola qua, birra veramente sarda. Questa è la passeggiata di Sant'Antioco, con tutti i barrettini, con i tavolini fuori, queste belle case bianche e celestine, e si va verso il porto. Il mare è sempre limpido e bello in questo angolo del Sulcis, della Sardegna. Un po' troppa gente. Questa zona è bella, ma c'è un po' troppa gente, ovviamente meno sardi, ma più turistica. Sempre piacevole, ogni tanto incontrare un po' di persone. Sono venuti alle 6 e ora quando comincerà a movimentarsi ce ne andiamo.